Bacere per leggere è un'iniziativa che abbiamo organizzato per sostenere la cultura. Il bacio quindi oggi diventa un veicolo di diffusione della cultura e attraverso questo quindi tutte le persone che parteciperanno potranno soffrire di uno sconto per l'acquisto di uno più libri. In effetti uno dei valori sui quali è fondata la campagna di Michele Lafora che sorge appunto la diffusione della cultura e stasera lo facciamo con un bacio.